Eccoci ragazzi, benvenuti sul canale PG Passone Games, nuovo episodio del giovedì questa settimana. Oggettivamente è stata un po' particolare, ringrazio a tutti quelli che appunto si sono divertiti sia la settimana scorsa che nell'appuntamento del martedì. Diciamo abbiamo dato la precedenza cambiando un po' la programmazione di Starfield anziché farlo lunedì e mercoledì, ma l'abbiamo fatto lunedì e venerdì, cioè domani lo faremo. E appunto è subito entrato, ha fatto una new entry, il buon Forza Motorsport 7, quindi abbiamo cambiato, però FIFA è rimasto nel suo consueto orario e nel suo giorno. Secondo episodio settimanale, ci avviciniamo anche a preparare con il debutto, con la carriera del giocatore, che appunto credo, credo, non uso il condizionale, debutterà la settimana prossima, appunto ne parleremo poi nel weekly di sabato. Adesso, che dire, ragazzi, noi continuiamo la nostra avventura, la squadra ora c'è, devo essere sincero, la squadra ora c'è, ci si sta anche abbastanza divertendo. Musette ha avuto giocare l'ultima dunque, Mister, Musette, Missette ha dato anche la prossima partita, non avrei dovuto giocare l'ultima partita, Mister, oltre a essere deluso, Missette è anche molto stanco. Ok, non avevo altro, ti riconciderò un po' di riposo, va bene, poi Pavoletti, la tua scorta vi è venuta in campo ora che sono in forma, anche il Pavo ovviamente è in forma, però ragazzi ci sono dei giocatori che possono giocare solo un tempo e Musette ha chiesto un po' di, come dire, di riposo e quindi Pavoletti bisogna giochi dall'inizio. Allora, qui continua a esserci il pallino della strategia, della qualità necessaria è stata il giornale, capisco cosa vuol dire, poi magari lo capiremo più avanti, ecco, classifica, andiamoci a vedere la classifica. Allora, siamo arrivati quarti per il momento, siamo 4 con 10 punti, ma soprattutto a 2 punti dalla vetta. Quest'anno, ragazzi, a differenza della stagione precedente, che comunque è rimasta veramente una stagione per il sottoscritto epica, per le visualizzazioni, poi soprattutto per i 91 episodi, ne parlavo con Gabriele non più tardi della settimana scorsa, insomma, 91 episodi sono veramente tanti, soprattutto accompagnati per tante puntate anche dalla vostra presenza. Però ecco, quest'anno io voglio subito, diciamo, levarmi di torno, se è possibile, la Serie B inglese e arrivare almeno tra i primi due, anche se ci sono Lanchester, Leeds, Norwich, il Watford, il Covert, il Southampton, insomma, su tutte squadre che comunque hanno sempre, soprattutto il primo, il City, il Leicester Street, come lo pronuncio io, insomma, ultimamente è sempre stata una squadra che è, diciamo, a parte la vittoria con Ranieri, ma insomma, l'abbiamo vista anche partecipare alle ultime Champions, quindi vederla in Serie B inglese. Diciamo in fondo chi c'è, sapete che qui c'è la processione, perché qui abbiamo il West Browich, il Bristol, lo Stokin City, insomma, squadre che, e poi c'è anche l'Ul City, insomma, che sono a Gingano dietro. Siamo sempre, dopo cinque partite, non si può vedere la classifica, però, insomma, non ci fa piacere essere lì, soprattutto dopo l'inizio, quell'8-1 in casa. Allora, giochiamo contro il Mid-Sbruck, tra le altre cose anche questa, una squadra importante, vediamoci, come sempre, la relazione di pre-partita. Allora, lo giocano con un 4-2-3-1 largo, qui come giocatori che conosco, forse, Greenwood, sì, Greenwood, trequartista, che è Jones, un altro giocatore che ha bazzicato la Serie A inglese. Poi c'è Clark, un altro giocatore che, se non sbaglio, l'ho avuto da qualche parte in qualche serie. Una squadra che ha, diciamo, il fulco del gioco nel centrocampo, hanno tre stelle, valutazione, comunque, il Mid-Sbruck è una squadra storica, 1876. Se pensate che la squadra più vecchia in Italia, il Genoa, cricket, football cricket, se non sbaglio, è del 1800, pochino più giovane rispetto al Mid-Sbruck, ma, insomma, di squadre del, diciamo, tra gli 800, in Inghilterra ci sono tante, tanto è vero, che statistiche, statistiche della squadra, voglio vedere cosa ha fatto. Nelle ultime 5 partite ha fatto 4 vittorie in una sconfitta, quindi, insomma, attenzione, idea tattica, vediamo un attimino, questa è un'altra cosa molto interessante, che, insomma, alcune, anche Latte Latte, Latte, Greenwood, sono i giocatori più offensivi, e anche Latte Latte, se non sbaglio, l'abbiamo visto anche in Italia, magari qualcuno nei commenti, se lo sa, me lo può anche dire. La squadra adotta un assetto ordinato in fase di non possesso, ha rispetto proprio per il centro, in attesa del momento giusto per pressare. La squadra del miso si affida a un cursore lenta, cercando di mantenere, va bene, non perdiamo. Allora, calcio d'inizio, noi giochiamo, allora, Musset ha chiesto, gestione squadra, ha chiesto di riposare, noi facciamolo giocare, ma chi ci si mette? Io direi di mettere Armstrong, perché il Pavoletti ce la fa più. Armstrong si dà un pochino di respiro, vediamo un po', abbiamo un'altra attaccante, sì, Garpo anche no, di attaccante abbiamo una marea, però fanno tutti schifo. Vediamo un po', eh, Duke McCann, Blank, Black and Taylor, questo può giocare attaccante? No, questo qui, facciamo giocare lui, lui non può giocare attaccante, questo può fare. Kelman lo mettiamo al posto di Musset e mettiamo davanti lui, non ce la fa più, è un'uscita a zero, però ragazzi bisogna fargli giocare e poi magari nel secondo tempo vediamo. Quindi abbiamo dato a Musset addirittura in tribuna, neanche a riserva, però ragazzi è un forma fisica, non ce la fa, facciamolo riposare un po', perché ci vuole come il pane. Come sempre l'episodio vi tratterebbe due partite, quindi insomma ragazzi state lì davanti al telefonino, perché di solito ho visto che è più in telefonino, oppure state davanti dove vi pare, intanto abbassiamo questo perché l'audio ho notato quando si gioca a AFC è troppo alto, quindi... Bene, no, meno male non ho guardato tutto. Middlesbrough Tanto ragazzi sono arrivate le slide, sono arrivate le slide degli amici, ora c'è più che gruppi, c'è anche gruppi Telecam, Telegram, quindi insomma ci sono tanti gruppi. Abbiamo, ora poi ve la farò vedere. E' là! Ma c'è, c'è! Lui è Armstrong che si deve far vedere ovviamente. Ragazzi comunque questi giuratori vici hanno un fisico possente, un fisico veramente possente. Tanto qui, ragazzi io sto preparando anche un video che metterò nell'episodio, nel prossimo episodio metterò un video in cui faccio parlare, se è venuto bene, se viene bene, faccio parlare Mister Allegria prima di cominciare il nostro video, o comunque come, diciamo, ingresso in campo. E quindi con l'intelligenza artificiale si può fare tutto, boh è botta. Vai De Iola! Vai De Iola! Bravo! Dagliela! Ci siamo! E vai! 1-0! E' il debutto con il gol! Chi è questo? E' quel ragazzetto che ho messo, no? O no? Sì, 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 sì. Perché Armstrong gli ha dato un bel pallone e segna subito. Dicevo ora poi magari le ritoccherò un pochino le slide perché non mi convincono molto quelle che hanno suggerito gli amici del gruppo Telegram Carriera, ci sono una marea di gruppi, poi magari vi faremo un po', magari un episodio particolare. A proposito, la settimana prossima ci sarà anche un episodio dedicato alle tattiche sull'online, quindi sull'ex foot Charlie Kellman, quindi un primo gol, una partita, sì, l'attaccante l'abbiamo messo in campo. Quindi faremo un po' anche qualche provato, ovviamente, sempre per divisioni. Qualcuno l'ha, purtroppo, perché poi la gente non capisce, no? Uuuuh! Ma chi è questo video? Nooo, c'è tutto lui! Fa tutto lui! Abbiamo trovato Kellman! Kellman fa tutto lui! Dicevo appunto, occorrono, perché qualcuno denigra, no? Che è nelle divisioni più basse per quanto riguarda l'online, l'ultimate. Ho visto alcune live di qualche, diciamo, streamer importante che se non sei in prima divisione non ti caga nemmeno. E questa è un po' la vergogna di certi, perché bene o male, è vero, per l'amore del cielo, Gli consigli le devono dare chi sa giocare, ma, a mio avviso, per chi, la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte degli utenti, gioca, boh, boh, se riesce cinque partite la settimana. Dicevo appunto, anche se uno gioca magari cinque partite al giorno, dico tanto, sì, ma, insomma, chi magari ne fa anche meno. E' logico che non sia un fenomeno, non si trova in divisioni altissime. E quindi, secondo me, benvengono, io le sto cercando, ma non ci sono indicazioni di qualcuno che magari gioca e c'ha una buona squadra, aio, aio, meno male. E magari si trova in divisioni un po' più basse e quelle tattiche e impostazioni fanno comodo per quel tipo di... Cioè, alcune volte mi dà veramente fastidio vedere certi comportamenti di... Perché non c'entra nulla con la carriera, io parlo del foot, che ora non è più foot. Anche se FC ci serve, comunque l'ultimate... Ah! Addio, ha perso già colpi lui. Comunque, ragazzi, bella partita, eh. Tra le altre cose, il mid sblocca... Cioè, ha due punti in meno di noi, eh. Quindi, comunque, sempre in alta... Ah! Dio, benedetta! Addio! Sotto! Ma esci! Ma esci! Esci! Maddonsca, ragazzi, come si fa a non uscire così? Ma vaffanculo, all'altra segna... Sì, io mi ricordo che questo giocatore, mi sembra, giocava in qualche squadra del Nord Italia in Serie C. Se non voglio sbagliare, sul Tirol, qualcosa del genere. Ma guarda, è il portiere, guarda, poi l'aspettava. Cioè, impostavo l'uscita. Non è uscito. Ragazzi, uno a uno. E quindi, rispondendo al discorso delle impostazioni... Ovviamente, proprio le indicherò così anche nel titolo. Impostazioni per... Eh... Per non... Però... Bravo! Oh... Se rimesso subito la freccia avanti... Segna anche il nostro Armstrong, il gigante buono, così sovrannominato. Comunque, ragazzi, già qui... Forse era un fuorigioco. Comunque, bel tiro. E a chi è che non ce la fa più? De Iola, poveraccia, ha ragione, non ce la fa più. Dovevo farlo riposare, l'ho sbagliato io. Comunque Sinclair segna il suo primo gol in quattro partite. Ma è un po' chiuso, anche se, insomma, ragazzi... Vediamo se non facciamo giocare nessuno degli attaccanti. Così si riposano e si recuperano, magari, nei turni partitaccia. Però abbiamo una... A differenza degli anni passati, abbiamo... Addio, a qui però ci ripeto. Addio, fermo! Oh, no, no, no. No, il portiere non esce. Il portiere non esce. Cioè, io... Premo il tasto giusto per farlo uscire. Dunel ce la fa più nemmeno lui. E non esce il portiere. Potrebbero fare già i conti se non sfruttano dovere. I tifosi capiscono il momento. E aumentano il numero dei decibel. Bravo. Vai da te. Mamma mia il portiere, De. Che figura. Non esce, non esce. Il portiere è statico. Ce l'aveva i sassi nei pantaloncini. O nelle mutare. Perché i pantaloncini non mi risultano e ci abbiano delle tasche. Comunque, dicevo appunto... Sto preparando appunto un video Dove vi inserisco quelle che sono le tattiche finora da me utilizzate. Io sono in una modesta sesta divisione. Modesta lo uso con una vena polemica. Perché, ripeto, ho sentito alcune. Ho guardato. Tra le altre cose, persone anche che... Anche sono molto simpatiche nelle live. Però, se non sei in prima divisione Non ti cagano nemmeno. Non è, meno male, una cosa che fanno tutti, eh. Però, insomma, non fanno. E quindi mi sono detto, vabbè, facciamo. Anche se non sono un fenomeno. Insomma. Bravo, Corona! Però si muove bene, Kelman. Kelman si muove molto bene. Ma si sta giocando fuori Asa. Ma il chiacchiero duro e il chiacchiero Si sta giocando fuori Asa. Ci sarà dunque una sostituzione? Va direttamente in area. Finisce qui l'azione d'attacco. Ancora fuori gioco. Deiola. Ma l'ho già fatto uscire, Deiola, io. Oh, l'ho già fatto uscire, Deiola. L'ho fatto già uscire. A alcune volte, ragazzi, c'è sempre qualche bug. Ma cosa aspetta? Ora, l'uomo invisibile non ho ancora visto. Ma Deiola mi sembrava di averlo fatto già uscire. E è andato Donzel. Boh, vabbè. Bello, questo gol. Bellissimo, questa girata. Bellissima. Mamma mia, che gol. Che l'ha fatto? Romo, Romo, ragazzi. È un altro top player per questa squadra. Ma guarda che girata. Bellissimo. Si gira e poi tira. E il portiere non può far altro che guardare alle sue spalle. Bello, questo gol. Bellissimo. 3 a 1, ragazzi. La squadra c'è. Però vi ripeto, nel prossimo episodio correggerò un pochino le slide che ci hanno suggerito gli amici del gruppo Telegram che riguarda appunto la carriera. Non ancora quello del gruppo Facebook. Perlomeno non l'ho ancora visto. Perché non mi convincono. Ma noi abbiamo la difesa. Non esce. No, no, portiere, ragazzi. Portiere è indomabile. Come si fa a prendere questi gol qui? No, ragazzi. Guardiamolo. Voglio vedere. Non è possibile. Ma c'è qualche cosa in funzione. Non è possibile. E fai così, fai. Ma bisogna che ti tolga io. Bisogna che rimetta per l'altro. Guarda qua. Fermo. 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 Cioè. No, ragazzi. La prossima partita è già levallo lui. Ma come si fa? Come si fa? 3 a 2. Partita molto spettacolare. E su Scorona. Colback. No, ma noi ci abbiamo un ricambio. No, ma ragazzi. Ti preoccupa il portiere. Fermo. Fermo il portiere. Ci va a entrare una seggia? l'aguale. Il problema è che come escano... ma sono due squadre che giocano un calcio veloce. Votato all'attacco. Sono sicuro che ci divertiremo. Vai, Kelman! Troppo facile questo gol qui. Doppietta di Kelman. Al debutto, ragazzi. Non ci ha fatto rimpiangere nessuno dei titolari. Giocatore interessante questo Kelman. Quasi quasi lo porto almeno in panchina. Era in tribuna a stagionare. Aveva fatto funghi su tutto piedi. Invece l'ho portato in campo e ho segnato due reti. Questo era molto semplice. Volevo fare il pallonetto, ma non esce il portiere. Quattro a due, ragazzi. Credo che sta partita sia andata, però veramente. Sono molto preoccupato del portiere. Mi sa che a gennaio bisogna tornare su. Oppure risporvero il vecchio portiere che avevo tolto nella partita. Nella partita inaugurale dove ho fatto veramente schifo. Bravo, Cook. Ah! Sì, è un po' moscio, eh, questi. Bravo! Uh! Tripletta al debutto! Tripletta adesso, è troppo facile, però, così. Ma che cosettina va cambiata, via! Però, tripletta al debutto. Guarda che gol ha fatto. Ragazzi, questo mi ha fatto rigiocare per forza. Che è il manno? Ragazzi, abbiamo scoperto il fenomeno. Tre gol al debutto. Guarda il portiere. Guarda il portiere, guarda il mio grande dio. Ma i portieri, ragazzi, quant'è che l'aggiustano? Guarda, guarda, guarda. Ah, così. Dai, no, no. Veramente vergognoso. Veramente vergognoso. Allora, abbiamo vinto anche contro il Mildesvrk. E quindi credo che siamo in testa. Ok. Comunque, vi annuncio che nel prossimo o aumento il livello di difficoltà. Non ci sono come a campione, eh. Oppure correggo abbassando un pochino, o perlomeno, diciamo, aumentando il livello di difficoltà dell'avversario, perché così non si può giocare. Oddio, è stata una partita in cui il portiere praticamente è inesistente. Andiamo avanti e vediamo un pochino. Qui noi abbiamo giocato l'Antiscio, quindi, sommato, poi ci sono tutte le altre squadre. Allora, quindi, è inutile andare a vedere la classifica. Siamo in primi per forza, ma... Allora, intanto, qui c'è l'ultimo giorno di calcio mercato. Ragazzi, che facciamo? Qui, a me, sinceramente, questo giocatore, il portiere, mi ha fatto veramente scafì. E... Scalvini, stavo vedendo. Ha fatto veramente schifo. E qui sono dieci ore. Ragazzi, andiamo a vedere se tante volte si riesce a prendere un bel portiere. Cerca giocatori. Un portiere svincolato. E questo poi si leva. Ce ne abbiamo tutti, per l'amor di Dio. Svincolati. E quindi noi possiamo prendere solo uno svincolato. 23 anni. Può arrivare a questi riflessi. Poi c'è Zagaria. Amma la mamma e la polizia. Questo? Olafson. E chi li conosce, questi portieri vecchi? Poi sono così giovani. Marinovic. Marinovic. Presa a 60 anni di riflessi. Mamma mia. Forza. Ma io non voglio un portiere. Questo? Questo cos'è? Questo è un ungherese. Zbapanus. No. Questo Labrovic. Ma c'è proprio robaccia. Robaccia. Portiere. No. Ragazzi, niente. Via. Invece di questi qui, che sono sul mercato. Chi c'è qui? Tutti i giocatori. Questo magari riflessi. Qualche riflessi ce l'avrà. Qualche portiere. Bono. Mizzel. Alvarez. Questo? Alvarez. Deve essere Saragoza. Questo potrebbe essere un 37enne. Un bimbo. Magari ci porta su. Li facciamo fare un campionato. Oppure quest'altro? No. Questo fa proprio schifo. Lehmann. Frank Lehmann. 34 anni. Gazzaniga. Un altro giocatore. Pegolo. Oh. Gianluca Pegolo. 42 anni. È un bimbo. Praticamente è un bimbo. Joanne Fabri. Bisogna prendere. Questo è Langer. Dello FG Shack 04. Vediamo un po' chi c'è. Cherry. Tail. Tutti giovani. Eccolo. Scott Carson. Del City. 37 anni. Un bimbo anche lui. Ma guardate le stazze. Un po' guardate la faccia. Posso prendere uno così? Dai. Poi questo Celtic. Questo potrebbe essere interessante. Cos'è? Un turco? No. Non fa un cacchio. Questo? Nome impronunciabile. Cos'è? Un cieco slovacco? Eh. Somma. Abbiamo qualcuno parlato di lui. Continua a seguire. No. 74. No. Non mi piace. A me mi piaceva. Mi piaceva. No. Pegolo. Vedete? Pegolo. Sascha. E' Pegolo. Riflessi. Come fa? Vecili. Mi piaceva lui. Christian Varets. Tuffo 81. Forza. Elevazione. Questo Sascha. Aggiungi. Andiamo a vedere quanto piglia lui. Valore 800.000. Contatta per il prestito. Eh no. Delega per acquistare. Si paga l'alternativa for clap. Veniamo. Vai. Delega. Vai. Un po' meno. Vai. Avanti. Vediamo se si prende. E quell'altro portiere ce l'abbiamo noi portiere. Però a questi video... Eh vediamo un po'. Eh. Andiamo avanti. Avanza di un'ora. Tanto vediamo un po' chi è. E' tempo. Si sente. Ma chi è che le modifia? Buongiorno Allegri. Tiene la nostra offerta. Perché è una risposta in tempi brevi. Meno male. Lloyd. Se lo dirò. Peccato. Non l'avevo letto. Avanza di un'ora. Un din dì. Dalla cesta all'Everton. Install. Ognuno ha la nostra offerta all'inizio. Va bene. Allora. Ok. Allora. Salta l'ultimo giorno. Dai. Saltiamo l'ultimo giorno. Allora ragazzi. Noi. Quel portiere lì. Ma veramente. Ma ha dato. Boo. Andiamo un po' avanti. Vediamo un po' qui. Giocatori impegnati con le nazionali. Dickens di Scozia. Coppi con Ghana. E Clay con Marocco. Vai alle formazioni. Ok. Dickens. Va bene. Va bene. Ma primavera. C'è qualcuno. Vai a Vivaio. Un portiere buono. Niente. Non ci abbiamo nulla. Questo qui è interessante. Lui è molto interessante. La velocità è 71. Questo ha 15 anni. Non lo possiamo mettere. Questo Novavac. Che può fare il potenziale 80. A parte da 60 tempo. Puede arrivare. Potenziale 80. Questo può fare. A 18 anni. Può fare l'esterno destro. Questo invece è un Asa. Ragazzi. Questo io promuovo in prima squadra. Quest'altro invece fa veramente schifo. Quindi. Quest'altro è uguale. Anche questo bimbo. Promuovo in prima squadra. Questo gioco deve essere in prima squadra. Vabbè. Allora. Allora. Classifica. Allora si può vedere la classifica. Ma siamo secondi ragazzi. Ma. In teoria siamo primi. Comunque siamo lì. Con 13 punti. In testa dal campionato. Dopo 6 partite. 4 vittorie. Un pareggio. Nasconfitto. 19 gol fatti. 15 subiti. Ricordiamoci che queste 15. 8. Le abbiamo presi. Nella prima partita. Quindi. Continuiamo. Sono troppo lungo. Andiamo avanti. Gioco contro il. No. Un'altra squadra importante. Ma questa qui. Sì. Il. Shansi. come cacchio si ama. Ora ce l'ho dita a lui. Allora. Qui abbiamo un po' questa squadra qui. Anche questa è una squadra abbastanza nota. Una squadra se non sbaglio è scozzese. Qui non ci sono però giocatori di un certo che non conosco. Obekda forse. Obekda forse. Forse. Cooper. Però non c'è niente. Le ha perse tutte. Le ha perse. Ha fatto su tutti i cinque partite. Tre sconfitte. Una vittoria in pareggio. Quindi questa squadra è un po' messa a maluccio. Quindi. Ok. Non giocavo in casa prima vince. Allora. Ragazzi. Io ho rimesso in campo un po' tutti. Quindi. Dickens e Musette sono fronti per poter giocare. Hanno avuto una giornata di riposo. Ma sono stati sottolineati da validi giocatori. Tra le altre cose non ho portato in campo. Vabbè. Lo porterò. Ah. Finalmente si gioca con la nostra maglia. Swans. Ecco. Non ho scelto. Swans. Bravo. No. Porca miseria. C'è anche la sfortuna. Nostra. Bravo. Oddio. Forse non so se era proprio nostra. No. Vacci. Vai Romo. Bravo. E' un po' più elementi. Ci tirano fuori dalla situazione complicata qui. E' un po' più elementi. No. Ah. Si interisce bene e recupera. Boh. Quando siamo arti noi. questo porta male vai De Iola ah dagli la palla porca miseria tosta buono che legnale va Dix 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 però continuiamo così ragazzi continuiamo a così bravo Musete Fro no ho voluto fare il pallone chi è che esce di Giao De Iola mamma mia mettiamolo riposiamo facciamo riposare Dio ora vediamo se riesce perché anzi Alessandro esce entra André Dozzer ce la fa nella fase partita va fatto riposare via mamma mia no sono coloso di vedere quando si arriva davanti al portiere vai Corona no capperrori davanti alla porta possibilità di contrapiede vai Virgo finito il primo tempo ragazzi troppi errori troppi errori 0 a 0 troppi errori contro questa squadra che non mi sembra che sia così tanto noi abbiamo sbagliato un po' troppino allora gestito della squadra Musette lo facciamo riposare e mettiamo il pavo così e poi poi mettiamo su Boiata non ce la fa più se no tanto è inutile e poi c'è Wilcock anche lui non ce la fa più se no è vero che riprendiamo la partita se no poi i giocatori non a me comunque c'è un po' di velocità abbiamo messo al posto di Virgo che era il giocatore più veloce quello anche un pochino più rappresentativo perlomeno della squadra basi poi abbiamo preso due o tre pezzi buoni vai Carpo Carpozzo bravo abbiamo un po' il pavo il pavo di solito è l'uomo dei secondi 45 minuti di più un po' giocare bravo bravissimo c'è sempre mamma mia che errori a partita adesso si fa il gol nemmeno a pagarlo si piglia anche i gol e quindi se fa l'arbitro ragione pavo rientra occhio perché ci sarà un cambio è arrivata la conferma da parte dell'Aston Villa dell'accordo raggiunto con il loro ultimo acquisto dopo le voci di stampa ragazzi partitaccia via accolto favorevolmente dai tifosi e io li capisco pierre questo è un giocatore dalle grandi qualità tecniche ora aspetta solo il tecnico metterlo nelle condizioni di rendere al meglio mi interrompo perché ha cambiato il poteggio del match del Watford andiamo a sentire come è arrivato il terzo gol per il Watford Watford e davanti 3 a 1 quando siamo giunti al 73 contro grazie questa partita vi è stregata non si riesce a far go tagliano al pavo e nessuno mai finita via trappondietro stai pavonetti no che errore o che pia di cia corona dai chi esce dunel ce la fa più dai non si può sbagliare questi gol qui c'è messo proprio all'ottantanovesimo non ci credo ma che errore ha fatto il portiere che errore ha fatto il portiere non ci credo grande tiro di pavo non l'ha trattenuto ecco forse c'era anche fallo è forse c'era anche fa che partita è una partita stregata guarda favoreti tira la grande sassata il portiere non ce la fa e arriva prima chi è questo romo vedrai segna segna proprio lui la no no non ha fatto farlo il portiere è uscito troppo male all'ottantanovesimo gol di romo no chi è questo c'hai sì ma è romo è romo è romo è romo ha segnato lui no c'hai ilia c'hai non è romo non erro oh mamma mia oh mamma mia credo fosse romo 1 a 0 che culo che fortuna ragazzi che fortuna gol all'ultimo secondo un erroraccio del portiere abbiamo sbagliato veramente tanto però insomma io credo che poi di fatto lo 0 a 0 è stato più giusto perché sì è vero abbiamo tirato ma quanti errori comunque grande gol di kair sicilette non so neanche chi è devo sempre conoscerli un po giocatori però veramente un gol veramente bello e ricordiamoci che noi comunque abbiamo anche un reparto attacco molto importante con una sottotono anche wilcock due giocatori un po sottotono bisogna un pochino recuperarli però ragazzi abbiamo vinto la cosa più importante è l'è questa allora avanti che culo ragazzi allora anche perché gratti squadre ma la vediamo noi il primo c'è le altre squadre allora dunque diamo un po la classifica è un po la classifica sono primi primi ma che incominciamo col world ford 16 punti cominciamo a fare un po di sgomitate però ragazzi la settimana prossima cambierà qualche cosettina a livello di carriera cambio di slight anche se insomma oggi abbiamo un po patito a parte la prima partita e portiere non c'è non è diciamo impresentabile nella partita precedente in quella di oggi vediamo non non si è visto neanche quindi non ha fatto neanche un tiro comunque ragazzi siamo in testa al campionato con 20 reti quindi squadra che segna ma subisce anche tanto 15 5 vittorie un pareggio è una sconfitta io vi do appuntamento a martedì prossimo con un nuovo episodio della carriera ripeto vi darò diciamo conferma o meno se incomincerà anche la carriera allenatore del figlio nicolas allegria come vi ho detto già in qualche weekle un saluto e ragazzi cliccate 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 e condividete il video ciao ciao